Impara l'italiano con omno Uune pesta Doe gambe Una pancha Tre mani Quattro braccia Ciao Omnom, come stai oggi? Che succede? Ho un gioco! Impara i cinque sensi Sì, iniziamo! Wow, una caramella! Oh, ma è la tua preferita! Lo so che ami le caramelle Giochiamo! Io gusto la mia caramella con le mie... Mani? No, non con le mani Con la mia lingua? Sì, giusto! Noi gustiamo il cibo con la lingua Omnom, prova proprio adesso! Sapevo che non potevi resistere! Oh, che bella giornata per una passeggiata! E guarda, un arcobaleno! Io vedo l'arcobaleno con il mio... Naso? No, non è corretto! Vedo un arcobaleno con la mia... Lingua? No! Con i miei occhi! Giusto! Noi vediamo con gli occhi! Sì! Oh, Omnom sta facendo un lavoretto d'arte! Oh, ma la colla è finita! E anche Omnelli! Ma senti, la campanella sta suonando! Io sento la campanella con le mie... Mani? No! Io sento la campanella con la mia... Lingua? No! E perché non con le mie... Orecchie? Sì, giusto! Noi sentiamo con le orecchie! E Omnelli ha sentito la campanella! Lezione è finita! Che bel disegno! Oh, gelatina! Gelatina blu oddeggiante! Attento, Omnom! Tu ami la gelatina, vero? Ha un buon odore! Mi chiedo a che gusto sarà! Io tocco la gelatina con il mio... Naso? No! Con i miei... Occhi? No, non tocco con gli occhi! Tocco con le mani! Sì, ottimo lavoro! Coraggio, Omnom! So che la vuoi! Sei diventato blu come la gelatina! Ti dona! Oh, sei in camera da letto ora! È un profumo? Sono sicura che è buonissimo! Io annuso il profumo con le mie... Mani? No! Con la mia lingua? Oh no! Con il mio naso! Sì, esatto! Io annuso con il naso! Ed è buonissimo! Sa di farfanne e fiori! È stato divertente, Omnom! Ciao! Ciao, Omnom! Come va oggi? Mi sembra ti stia divertendo! Cosa sono quelli? Sono forse coni gelato? Oh, sembra provare una palla da calcio! Non trovi, Omnom! Una pallina di gelato blu! Rosa! Uno! Due! Due! Due palline di gelato rosa! Uno! Due! Tre! Tre palline di gelato gialle! Il mio colore preferito! Omnom! Dove vai? Uno! Due! Tre! Quattro! Quattro palline di gelato viola! Omnom! Torna indietro! Guarda! Hai il tuo stesso colore! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Cinque palline di gelato verdi come Omnom! Non sono molto sicura tutti ci possa arrampicare, Omnom! Omnom, qual è il tuo sport preferito? Il tuo sport preferito è il calcio! Anche il mio sport preferito è il calcio! Omnom! Omnelli, qual è il tuo sport preferito? Il tuo sport preferito è lo snowboarding! Anche il mio sport preferito è lo snowboarding! Omnom! Qual è la tua verdura preferita? Omnom! Omnèel, la tua verdura preferita è il pomodoro! Omnom! Anche la mia verdura preferita è il pomodoro! Omnom! Omnom, qual è la tua verdura preferita? Omnom! 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 La tua verdura preferita è la carota! anche la mia verdura preferita è la carota qual è il tuo animale preferito? il tuo animale preferito è la pecora om nom, anche il mio animale preferito è la pecora omnelli, qual è il tuo animale preferito? il tuo animale preferito è la scimmia anche il mio animale preferito è la scimmia om nom, il tuo sport preferito è il calcio anche il mio sport preferito è il calcio omnelli, il tuo sport preferito è lo snowboarding anche il mio sport preferito è lo snowboarding om nom, la tua verdura preferita è la carota anche la mia verdura preferita è la carota omnelli, la tua verdura preferita è il pomodoro anche la mia verdura preferita è il pomodoro om nom, il tuo animale preferito è la pecora omnelli, il tuo animale preferito è la scimmia anche il mio animale preferito è la scimmia Veloce lento lento veloce veloce lento 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 veloce veloce lento veloce 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 giallo rosso verde rosa blu A presto! Piccolo Medio Grande Più grande Il più grande Piccolo Medio Grande Grande Più grande Il più grande Rosso 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 E' viola verde rosa giallo rosso viola verde rosa blu rosa verde arancio viola verde rosa cerchio stella triangolo quadrato forme viola verde rosa triangolo dove lo vediamo? in un trancio di pizza un cappello da festa cerchio cerchio dove lo vediamo? in una caramella in un orologio in un biscotto in un biscotto fetta stella stella un'altra caramella in un biscotto triangolo triangolo cerchio quadrato ciao Omnom come stai oggi? diamo un'occhiata e vediamo che cosa c'è qui sotto una torta! oh io adoro le torte di compleanno ma Omnom mi spiace le torte non sono molto sane non ci pensare vediamo cosa c'è ora una mela! una succosa mela rossa! le mele fanno molto molto bene Omnom non preoccuparti la potrai assaggiare più tardi intanto mettiamola nel cestino molto bene vediamo cosa c'è ora un cheeseburger oh io adoro i cheeseburger ma in realtà non sono molto salutari mi spiace Omnom deve andare con la torta proviamo di nuovo aaaaaa broccoli! oh guarda Omnom ha il tuo stesso colore si può fare una deliziosa crema oh guarda è come un alberello ok che c'è ora? eeeh pizza! oh io amo la pizza ed è davvero un ottimo piatto italiano ma anche questa non fa molto bene Omnom mi spiace devi andare nel cestino del cibo non sano ok ancora uno eeeh spinaci gli spinaci Omnom sono davvero ottimi e anche loro hanno il tuo stesso colore il verde deve essere un colore davvero sano bene che cestino dovremmo provare sono affamata mmm non sano sano ottima scelta Omnom giallo rosa blu giochiamo a calcio bello wio Спoyani andiamo in bicicletta andiamo con lo skateboard andiamo a nuotare andiamo a ballare Lampada dov'è la lampada? è sul tavolo scatola dov'è la scatola? è sotto il tavolo mela dov'è la mela? è sotto la seggiola foto dov'è la foto? è sulla parete specchio è sotto il letto dov'è la lampada? è sul tavolo è sul tavolo dov'è la scatola? è sotto il tavolo dov'è la mela? è sotto la seggiola dov'è la foto? è sulla parete dov'è lo specchio? è sotto il letto è sotto il tavolo è sotto il tavolo è sotto il tavolo che parte della casa che parte della casa sarà questa? un divano è un tappeto dove si trovano tutte queste cose lo so nel salotto aspetta ti devo dire qualcosa dove sei ora? aspetta attento oh grazie al cielo stai bene un mobile con uno specchio un comodino con i fiori un letto mi pare che tutte queste cose si trovino in una camera da letto esatto una camera da letto wow Omnom ho ancora qualcosa da dirti oh ora in che parte della casa ci troviamo? attento Omnom scotta cerca un po' d'acqua così va meglio dunque abbiamo un fornello un aspiratore un frigorifero un bollitore un orologio dove troviamo tutte queste cose? lo so in cucina oh ecco ti Omnom mentre mangi il gelato volevo dirti che ti voglio molto bene stella una stella omino di pan di zenzero due omini di pan di zenzero pupazzo di neve tre pupazzi di neve campana di natale quattro campane di natale pacco di natale pacco di natale cinque pacchi di natale calze natalizie sei calze natalizie bastoncino di zenzero bastoncino di zenzero sette bastoncini di zenzero bastoncini di zenzero pallini di natale otto palline di natale fiocco di neve fiocco di neve fiocchi di neve fiocchi di neve luci di natale dieci luci di natale buon natale ciao omnom come va oggi? mi sembra ti stia divertendo cosa sono quelli? sono forse coni gelato? oh sembra provare una palla da calcio non trovi omnom? una pallina di gelato blu rosa uno due 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 palline di gelato rosa uno due tre tre palline di gelato gialle il mio colore preferito omnom dove vai? uno due tre quattro quattro palline di gelato viola omnom torna indietro guarda ha il tuo stesso colore uno due tre quattro cinque cinque palline di gelato verdi come omnom non sono molto sicura tutti ci possa arrampicare omnom impara l'italiano con omnom